ecco avete visto cos'è successo ragazzi è successo questo è successo che è arrivato il momento di fare qualcosa di alternativo qualcosa di diverso che non avete mai visto in vita vostra sto parlando di fight and rage questo video gioco picchiaduro a scorrimento visto che io ho questa fissazione e ho un debole per i picchiaduro a scorrimento visto che mi sono sempre piaciuti un botto da bambino poveri esseri umani morti avete visto? si vedono morti con il sangue chissà che cosa faremo in questo livello alternativo di fight and rage i nemici animali ci sono sempre ma non mancano mai però sono sempre i soliti sempre gli stessi uguali e guardate che succede succede che ancora una volta bisogna affrontare il generale tiger e tracy i boss sconfitti completato il livello alternativo io vi saluto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace cari ragazzi io vi devo salutare anche questa volta vi ho fatto vedere una sorpresa grazie a tutti